Saluto cordialmente a tutti i polacchi. Voi, per primi, avete sostenuto l'Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre casse agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi invico di cuore. E questo frate francescano che fa lo speaker adesso in polacco, ma lui è ucraino. E i suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sottoterra per difendersi delle bombe, in un posto vicino al Kiev. E lui continua a fare il suo dovere qui con noi. Accompagnando lui, accompagniamo tutto il popolo che sta soffrendo dei bombardamenti, i suoi genitori anziani e tanti anziani che sono nel sottoterra per difendersi. Portiamo nel cuore il ricordo di questo popolo. Grazie a te per continuare nel lavoro. Grazie a te per continuare.